Giornate di festa, ma anche giornate intense per la Chiesa e per l'intera comunità monrealese. Una sequenza di eventi ravvicinati nel tempo che offrono anche il senso della viva città della cittadina normanna alle porte di Palermo. Ieri la solenne celebrazione d'ingresso del nuovo arcivescovo, il 58esimo della Chiesa monrealese. Monsignor Michele Pennisi, sino allo scorso febbraio vescovo di Piazza Armerina, ha ricevuto dal suo predecessore, Salvatore di Cristina, il pastorale, si è insediato sotto l'abbraccio del Cristo Pantocratore. La Cattedrale di Monreale è un gioiello unico al mondo, ha sottolineato, ma una Chiesa di pietra non va da nessuna parte. La Chiesa deve essere viva e partecipata da tutti. Un chiaro richiamo alla corresponsabilità da parte di tutte le componenti ecclesiali, le parrocchie senz'altro, ma anche le associazioni, i movimenti, le confraternite. Don Michele Pennisi da anni vive sotto tutela per il suo impegno nella promozione della legalità e contro la criminalità mafiosa, ma non sono un vescovo antimafia, ha sottolineato. Nessun cristiano è antimafia, come se potesse esserci spazio per cristiani che sostengono la mafia. La nostra arma è il Vangelo, l'annuncio del Vangelo contribuisce a sconfiggere la subcultura mafiosa. Il nuovo arcivescovo di Monreale ha ricordato anche il luminoso esempio offerto da Don Pino Puglisi, che sarà proclamato beato il prossimo 25 maggio a Palermo. Giorni di festa, dicevamo, domani prende il via il calendario dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, che avrà il suo culmine nella giornata del 3 maggio, con la processione del Crocifisso, che dal santuario della collegiata si muoverà lungo tutte le vie di Monreale. Un culto secolare rinnovato dall'impegno della confraternita dedicata proprio al Santissimo Crocifisso. Quest'anno anche una mostra fotografica con gli scatti di Massimo Palmigiano, gli eventi organizzati dal Comune e un calendario di manifestazioni per rendere questa festa ancora più coinvolgente di quanto già non sia. Lo scorso anno Monreale ha ospitato il Cammino Nazionale delle Confraternite d'Italia. 14.000 confrati si sono ritrovati sotto il Duomo Normanno per testimoniare una realtà viva e soprattutto giovane.